Che bellezza ragazzi i nonni, una volta vedi il nonna e la nonna sul divano alla televisione gli dissi, che bellezza vedervi tutti e due sul divano, il nonno mi disse, sai è 70 anni che siamo sposati, bravi gli dissi, ma qual è stato il periodo più bello di tuo matrimonio mi disse, quei 4 anni prigioniero in Russia, tac e cade la pizza, tac tac